Ho ancora fame! Dovevo riconoscerlo. Mi avete battuto senza neanche liberare il vero potere della monade. Il vero potere? Che cosa sai della monade? Mi spiace, ragazzo. Non posso dirtelo. Dovrai scoprire la verità da solo. La verità? Ho aperto gli occhi quando sono diventato quello che sono adesso. È stato divertente finché è durato. Quando sei diventato quello che sei? Cosa vuoi dire? Tempo scaduto, mezza cartuccia. Per me è la fine! Xord! Torna qui! Torna qui! Torna qui! Grazie.